Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti cari amici del canale YouTube, buon martedì 30 luglio e ci siamo, ci siamo per il secondo acquisto del Milan. Ieri sera è sbarcato a Linate Pavlovich, difensore serbo di 23 anni, già da alcuni giorni non si allenava con il Salisburgo, era ansioso di poter provare questa esperienza al Milan, ieri sera è sbarcato a Linate, in queste ore svolgerà le visite mediche. Attorno ovviamente alle visite mediche di Pavlovich c'è anche un po' di attesa, perché lo spieghiamo subito con molta trasparenza, Pavlovich era già stato qualche anno fa acquistato dalla Lazio con Iglitare, ma non aveva superato le visite mediche, quindi probabilmente attorno alla questione delle visite c'è sempre un po' in questo caso di apprezzione, diciamo così, però se tutto dovesse andare per il verso giusto, se dovesse superare le visite mediche, Pavlovich sarà un nuovo giocatore del Milan, il secondo acquisto del Milan di questa campagna 2024-2025, di quest'estate, dopo Alvaro Morata, operazione da 18 milioni più 2 di bonus, quindi per un totale di 20 milioni, era un po' questo l'intento del Milan di prenderlo per meno di 20 milioni, un pochino meno, infatti operazione che si sta chiudendo, che si è chiusa almeno a livello economico, sui 18 milioni più 2 di bonus. Ora, visite mediche nelle prossime ore, poi il superamento di queste visite e successivamente la firma sul contratto, un contratto che dovrebbe essere di 5 anni per il giocatore serbo. In tutto questo sta rientrando dagli Stati Uniti d'America anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, perché poi in sede sarà lui a far firmare il contratto al giocatore, lui che ha potere di firma, quindi sostanzialmente rientra anticipatamente in Italia, a Milano, l'amministratore delegato Furlani, che era andato in tournée nella prima parte in America insieme a Ibra e alla squadra per le firme sul contratto del giocatore. Il Mijana prende un grande giocatore, prende un ottimo difensore. Pavlovich nella stagione 23-24, quella passata praticamente, nella Bundesliga austriaca, è stato il miglior giocatore per duelli vinti, è stato il miglior giocatore per contrasti ed è stato il miglior giocatore anche per passaggi effettuate, quindi parliamo ovviamente sempre della categoria di difensori. E quindi il Mijana va a prendere sicuramente un elemento molto molto interessante, era quello che serviva secondo me a questo Milan, il giocatore forte fisticamente, l'avete visto, ci sono anche delle foto di lui in palestra che girano in rete, ed è davvero fisicato, è un armadio enorme, è quello che serviva al Mijana soprattutto per contrastare il problema del gioco inattivo, delle palle aeree, dei calci d'angolo, sia quando lì si subiscono i calci d'angolo, ma anche quando il Mijana li batte i calci d'angolo, perché lì potrebbero arrivare anche dei gol con colpi di testa all'interno dell'area avversaria. L'anno scorso ne ha segnati tre Pavlovich con la maglia del Salisburgo in tutte le competizioni. Quindi stiamo sicuramente a vedere cosa farà al suo primo anno al Milan, però è chiaramente un giocatore che porta dei valori importanti in difesa e farà coppia con Tomori. Quindi il secondo colpo del Mijana è arrivato probabilmente un po' tardi, perché siamo al 30 di luglio e il Mijana al 30 di luglio non ha fatto altro che andare a coprire le due caselle vuote lasciate da Kier e lasciate da Giroud. Quindi compra l'attaccante, il sostituto di Giroud, compra il difensore, il sostituto di Kier al 30 di luglio. Ora bisogna fare tutto il resto del mercato, tutto il mese di agosto, sarà tutto dedicato agli altri acquisti e quindi il terzino destro e quindi il centrocampista e quindi probabilmente una mezzala e un altro attaccante, ma anche il portiere. Purtroppo ragazzi il Mijana è alle prese ancora una volta con gli infortuni, bisogna dire che questa volta sono infortuni di natura traumatica, quindi non c'entrano la parte muscolare. L'anno scorso il Mijana ha subito tantissimi infortuni muscolari. I primi due infortuni dell'era Fonseca sono pesanti, pesantissimi, perché sono giocatori che rimarranno fuori per diversi mesi. Abbiamo detto di Florenzi, che praticamente salterà quasi tutta la stagione a causa di questa rottura del legamento, il crociato e il danneggiamento del menisco, dovrà operarsi, ma si è fatto male in maniera seria anche Sportiello. Sportiello si è fatto male in hotel, ha avuto un problema alla mano, un taglio profondo a tal punto che questo taglio lo terrà fuori molto tempo. Si parla addirittura di due o tre mesi. Quindi immaginate insomma anche il problema, il dolore a questa mano provocata da questo taglio. Naturalmente il Mijana non fa emergere altri dettagli, oltre a questo, ed è stesso il Mijana che più avanti annuncerà i tempi di recupero di Sportiello, ma sono lunghi. E poiché sono lunghi, e sappiamo anche che Mike Mignan purtroppo non dà sempre tante garanzie dal punto di vista fisico, e allora il Mijana si sta muovendo per prendere un altro secondo portiere. Il Mijana vuole prendere un altro portiere, quindi oltre Mignan e oltre Torriani, che sarà il terzo giovane portiere del Mijana, vuole prendere un altro secondo portiere al posto di Sportiello e lasciargli tutto il tempo di recuperare. È stato sondato in maniera seria scuffet del Cagliari, operazione che si aggira intorno ai 2 milioni. Il Cagliari sta parlando con il giocatore, anche con il Milan, portiere di quasi 30 anni, scuffet che, ve lo ricordate ai tempi anche all'Udinese, era una grande promessa, poi non ha fatto la carriera che ci aspettavamo, però comunque per essere un secondo portiere e preso tra l'altro in corso d'opera può essere una buona opzione. Il costo è basso alla fine dell'operazione, quindi il Mijana si sta muovendo per prendere il secondo portiere. Non c'è solamente scuffet, sono stati fatti anche sondaggi con portieri stranieri e molti li stanno proponendo, una volta saputo che il Mijana va alla ricerca anche di un portiere. Dicevamo, il terzo colpo invece, escludendo la questione del portiere, potrebbe essere Emerson Royal. Sempre in questa settimana, il Mijana vuole chiudere sia Pavlovich sia Emerson Royal, quindi sistemare sia il ruolo di difensore centrale ma anche di terzino destro, proprio perché Florenzi lì non ci sarà per tutta la stagione. Emerson Royal si è promesso al Milan da almeno un mese e mezzo, all'accordo con il club rosso-nero, vuole venire al Milan, lui è extracomunitario e insieme a Pavlovich vanno praticamente ad occupare tutte e due le caselline libere, gli slot da extracomunitario, però il Mijana ha fatto queste scelte, quindi sostanzialmente Emerson Royal si appresta a breve a diventare un nuovo giocatore del Mijana. Manca veramente qui l'ultimo step anche con il club, con il Tottenham. L'operazione sarà attorno ai 15 milioni più bonus, ma è un Milan che sta per concludere anche il terzo acquisto e poi andrà a prendere il centrocampista, tutto su Fofanà, il Milan vuole insistere su Fofanà, sa che ha il suo ok, sa che ha il suo gradimento, il gradimento del giocatore, l'accordo economico col giocatore, il suo entourage, e infatti il giocatore per ora sta rifiutando tutte le altre proposte. Il West Ham sta rifiutando anche altre proposte che stanno arrivando, anche lo stesso Atletico Madrid, qualcuno ha parlato anche di Napoli, ma lui vuole venire a Mijana, finché c'è l'intenzione del giocatore di sbarcare il rosso-nero, Mijana si sente forte di questo accordo col giocatore, quindi fa solamente dei rilanci al ribasso. Prima 12 milioni per 14, 15, ora è arrivato a 17, secondo me si può chiudere attorno ai 20 milioni, prezzo più che sufficiente secondo me per un giocatore che scade l'anno prossimo, fra un anno. Vi aggiorniamo su tutto il resto del mercato rosso-nero, un abbraccio a tutti, ciao ragazzi.